buongiorno a tutti io sono morizio massaro sono professore di venetia e come è stato anticipato coordino il corso in digital management che ha tutta una serie di caratteristiche che lasciatemi dire lo rendono unico in primo luogo come potete vedere lì è un corso che ha natura verticale come c'è già stato presentato quindi vuol dire che non si tratta di un corso generalista affronta il tema della trasformazione digitale che viene affrontata fin dai primi anni quindi non è un percorso dove uno ha percorsi molto trasversali tradizionali c'è subito una verticalizzazione con due elementi fondamentali il primo è l'utilizzo di una metodologia didattica innovativa che ricorre al caso di studi per rendere molto concreto molto ancorato alla fattispecie pratica la dimensione teorica quindi già dal primo anno gli studenti hanno un verticale sul tema che vogliono approfondire ancorato dei casi di studi con un tema di docenti come potete vedere lì che tendono a ancorare dimensione teorica e dimensione pratica parte di questi docenti vengono anche dal mondo professionale quindi hanno un percorso prettamente professionale questo elemento ecco non è stato detto ovviamente l'avete colto dalle slide ovviamente tutta la didattica avviene in lingua inglese altro elemento che permette creando forse delle difficoltà in più per lo studente che deve in qualche modo apprendere ma permette di rendere internazionale il contenuto e il in qualche modo anche le modalità con cui il percorso va ad orientarsi quindi sicuramente corso verticale orientato alla pratica con una metodologia didattica fortemente innovativa portata sui casi di studio che fin dal primo anno accompagnano il percorso casi di studio che non sono tuttavia in una dimensione erogati una dimensione top down vuol dire che non c'è il non c'è solo c'è anche ma non c'è solo il docente che presenta il 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 caso di successo o perché no anche di successo no cioè spesso nelle nostre aule si parla di nokia o non solo di apple per intenderci ma con un'azione fortemente orientata allo studente che diventa il centro dell'apprendimento e che in quanto tale lavora in una dimensione di gruppo elemento fondamentale per creare non solo competenze cosiddette hard skills cioè competenze orientate all'apprendere il materiale specifico collegato alla materia quindi la matematica orientata alla dimensione digitale piuttosto che il il coding piuttosto che la trasformazione digitale ma anche una capacità di sapersi relazionare in condizioni di stress nel senso ovviamente stress buono cioè quello della valutazione dell'esame quello di dover lavorare in gruppo potersi poter dialogare sia con i propri colleghi sostanzialmente quindi con gli altri studenti sia con la dimensione del docente notate che il lavoro di gruppo è fondamentale ne discutevamo stamattina perché ci ritroviamo una classe dove abbiamo una parte anche di studenti internazionali gli studenti che vengono da diverse parti d'italia e da diverse parti d'europa e del mondo quindi questa capacità di dialogare con gli altri con diversi background aumenta il le cosiddette soft skills e quindi la capacità dello studente di ancorare la propria competenza fondamentalmente non solo al caso pratico ma anche alla possibilità di produrre conoscenza quindi lo studente nell'essere centrale diventa partecipe del processo di apprendimento fondamentalmente proprio grazie a questo percorso di sviluppo altro elemento fondamentale la dimensione student center fa sì che come c'è stato detto il percorso non sia rigido vuol dire che quando sono stati introdotti i concetti di corso elective vuol dire che ovviamente il percorso ha una sua spina dorsale che evidentemente caratterizza il tipo di corso di laurea ma permette anche allo studente di poter personalizzare una parte dei propri crediti formativi per poterlo in qualche modo adattare a quelle che sono le sue specificità le sue esigenze facciamo un esempio se lo studente è fortemente orientato alla base matematica a una base in qualche modo orientata alla data science sceglierà dei corsi più orientati in questa direzione direzione ad esempio data analytics piuttosto che qualche altro elective che costruisce in questa dimensione tra quelli che insegno io financial statement analysis se lo studente un po più orientato ad applicare la dimensione della digitalizzazione su il tema della performance delle imprese lo studente invece più orientato a dimensione umana potrebbe invece scegliere tutta una serie di altri corsi che lavorano un po più magari o sulla dimensione giuridica piuttosto che sulla dimensione organizzativa in modo appunto da mantenere un percorso didattico che sia orientato sullo studente che non è ingabbiato in questo senso il percorso del lavoro di gruppo e qui lo vedete molto rappresentato in questa slide dove si dice research oriented che cosa vuol dire vuol dire che lo studente nel lavorare in questa dimensione didattica partecipa alla creazione del contenuto e c'è uno sforzo di ricerca delle fonti applicazioni di quello che è stato studiato allargamento delle cose che si sono studiate in una dimensione completamente nuova mi permetto di fare un esempio perché è veramente incredibile un project work di una mia lezione perché credo sia veramente emblematico l'obiettivo che avevano gli studenti era immaginare di creare la propria start up e studiare il costo di prodotto per sviluppare poi un business plan ebbene io ho avuto un gruppo di studenti che sostanzialmente per capire qual era il costo del prodotto che volevano realizzare hanno comprato una sorta di stampante 3d hanno messo non budget enorme ma l'hanno comprata per capire come potevano fare hanno realizzato il primo poter prototipo tanto per dirvi quanto è alto il livello di partecipazione all'interno di questi percorsi ovviamente non stiamo parlando di budget importanti ma stiamo parlando di un gruppo di persone che ha molta voglia di fare ha molta voglia di apprendere ecco come docente posso dirvelo e ci tengo a trasferire a voi che siete potenziali aspiranti candidati a questo percorso di laurea non mi è ma mi capita raramente di dover spingere le persone troverete un ambiente fortemente dinamico fortemente orientato a apprendere a fare uno dei temi essenziali che vorrei ricordare è che qui andiamo a fare sia persone che possano collocarsi nel mondo del lavoro trovando la posizione che meglio sia data loro ma anche futuro imprenditori non solo job seekers ma anche job creators e proprio questa dimensione dell'imprenditorialità che è una competenza soft è fortemente alimentata da tutto il percorso che c'è stato presentato in precedenza chiuderebbe a questo punto con l'ultimo blocco con l'ultima slide che in qualche modo ci fa capire come non solo ci sono corsi che sono in qualche modo elective quindi a scelta dello studente ma ci sono addirittura corsi che sono enhancing cioè che hanno la funzione non di in qualche modo consentire allo studente di scegliere il proprio percorso ma allo studente volenteroso che ha voglia di allargare ulteriormente la competenza oltre quella minimamente richiesta per potersi laureare ci sono questa dimensione di corsi appunto enhancing quindi che ampiano le competenze dello studente e sui quali io credo che meglio di sentirlo da una vostra possibile futura collega aleandra ci sei sei con noi ci sono qualcosa aleandra è una studentessa che molto brava che credo che meglio di lei nessuno potrebbe raccontarvi che cosa sono questi corsi questi corsi enhancing cosa ti dice l'anno allora io sono assente appunto digital management del secondo anno quindi molti di questi corsi li ho fatti e devo dire che appunto aiutano quindi a differenziare il proprio percorso così come anche gli elective io per esempio sono molto una persona che per quanto appunto mi piaccia la digitalizzazione e quello che porta il corso di digital management mi ritrovo molto in quello che è l'arte e lo storytelling quindi uno dei corsi che mi è piaciuto di più dell'anno scorso quindi quando era il primo anno è stato think visually and communicate strategically in questo in questo corso appunto c'è stato insegnato come mettere diciamo focus a dei dati in modo emotivo ossia appunto lo storytelling fa sì che le persone si ricordino le cose anche per dei punti emotivi e grazie al professor massimiliano susari e alla sua esperienza di oltre vent'anni di fotografo professionista nonché anche fondatore di insomma un laboratorio online che fa appunto produzione media culturali ci è stato spiegato come anche poche cose possono far cambiare il messaggio in modo totale per esempio un esempio che mi è rimasto tantissimo è stato quello di mcdonald's che dal 2009 in europa ha cambiato il suo logo penso che molti l'abbiano notato che da rosso è diventato verde in molti dei ristoranti questo perché si vuole avere un approccio più green in quanto per esempio in europa è un come si può dire è un argomento che tocca molto la popolazione oppure c'è stato ci sono stati mostrati altri esempi anche video anche fotografici diciamo dove appunto anche un taglio una transizione o il modo di mettere in ordine certe immagini o certi spezzoli di video cambia completamente la percezione del dell'audience e quello che l'audience poi andrà a ricordare perché comunque come manager faremo tantissime presentazioni durante il nostro lavoro insomma domani come esperienza lavorativa e per quanto sia importante sapere appunto la teoria che c'è dietro la parte che viene appunto insegnata accademicamente la presentazione il modo di porsi e il saper far ricordare quello che ci interessa è una delle cose più importanti quindi a me ha toccato tantissimo questo corso e anche l'esame è stato molto molto interessante perché si trattava di fare un corto sulla vita di age farm ed è stato bellissimo vedere come tantissimi studenti vivono la stessa cosa alla fine perché viviamo tutti in questo bellissimo ecosistema la vediamo in modo diverso e che abbiamo raccontato in modo veramente diversi e ti fa riscoprire insomma anche questo posto ecco questa è stata l'esperienza grazie mille leandra chiudo anche segnalando come questi corsi prima di ritornare la parola hanno un ruolo fondamentale poi nell'ultimo momento del percorso di laurea che è il momento dell'intership dello stage ricordatevi tanto per dare un numero caffosca è un'università pubblica come tutte le università pubbliche abbiamo lo stage ma normalmente i nostri corsi danno 6 crediti formativi sapete per laurearvi servono per una triennale servono 180 crediti formativi che sono dati dagli esami che uno fa in nel percorso di digital management un intero semestre quindi 24 cfu vengono dall'esperienza sul campo dalla capacità di sapere applicare quello che si è appreso nei corsi obbligatori nei corsi elective e nei corsi enhancing in un contesto concreto io credo di aver esaurito tutto quello che dovevo dare ti ti ritorno una parola e ringrazio tutti i presenti grazie maurizio grazie alejandra devo dire che hai messo il fuoco su alcuni degli elementi che sono effettivamente fondamentali di di questo corso di laurea e comunque dello studiare in age farm il valore del concetto di entrepreneurship e intrapreneurship cioè il fatto che qui si venga a studiare come lavorare nel mondo dell'economia ma anche come poter essere attori e creazione creatori di lavoro oltre che eventualmente di lavorare come all'interno delle grandi aziende come se quel pezzo che vi viene che viene affidato a ciascuno studente o a ciascuno a quel punto dipendente sia il proprio il proprio business il proprio la propria start up all'interno della grande azienda è un modo di lavorare e ragionare in maniera molto diversa che è possibile anche grazie al fatto che c'è un contesto internazionale un contesto sicuramente in che integra mondo della consulenza mondo dell'impresa e il fatto soprattutto che ci sono studenti come alejandra brillanti e che hanno voglia di mettersi in gioco o come i tuoi studenti di cui raccontavi prima che vanno perché vogliono realizzare un bel progetto a cercare una stampante 3d per poter prototipare in maniera lean il la loro la loro idea io chiederei visto che è collegato e ci regala un po di tempo anche il professor Nicola Mazzari che è coordinatore del corso di laurea in digital business and data science un due parole anche sue che ha una Nicola Mazzari è professore di matematica quindi ha una lettura sicuramente più numerica anche delle cose come lui interpreta e cosa lui può dire di interessante per la valorizzazione di corsi di laurea appunto che hanno un modo di insegnare e di lavorare differente ciao a tutti io sono appunto Nicola Mazzari sono professore di matematica all'università di Padova da qualche anno e collaboro con Pharma dal 2017 ho insegnato in tutti questi in queste lauree triennali e di fatto io vado a Pharma perché c'è un contesto differente c'è un contesto che mi permette di fare le cose e permette anche agli studenti di imparare in modo sostanzialmente diverso ossia se per esempio ingegneria a Padova io ho 200 studenti in aula e faccio un certo tipo di lezione frontale e in farmi il contesto mi permette di trattare gli studenti come dei collaboratori di condividere gli stessi spazi di andarci a mangiare assieme e di fare il corso appunto più facendo da guida rispetto ai temi che tratto che non facendo il professore classico per cui in particolare nei corsi di Cicester o University of Europe e anche come ha già detto il professor Massaro ci sono c'è un atteggiamento più votato a far fare dei progetti a far sviluppare delle cose ai singoli studenti più che a trasmette una conoscenza puramente nozionistica e per fare un esempio concreto per esempio il corso di Cicester di matematica che è un corso di 36 ore poi alla fine ha un esame che è fatto sì da una parte di test perché bisogna vedere cosa è rimasto cosa si riesce a calcolare insomma è sempre matematica ma l'altra parte è un report ossia ogni studente deve studiarsi in maniera autonoma un argomento un po più avanzato e affrontare questo argomento e poi riuscirlo a raccontare agli altri e questo è l'atteggiamento che è fatto anche negli altri corsi dove intervengono sempre più persone dal mondo del lavoro che dal mondo accademico perché l'idea di questi corsi è più diciamo anglosassone e vuole portare subito gli studenti come già stato detto verso delle competenze concrete per cui insomma questo è l'aspetto positivo e che fa veramente la differenza su un corso di laurea fatto age farm rispetto che in altri istituti insomma